Come era stato anticipato dall'assessore Giuseppe Tuminelli durante il Consiglio Comunale tematico sul futuro dell'Anterna Rai, l'incontro tra Raguay e l'amministrazione Cestato. A gennaio sarà effettuato un sopralluogo congiunto per controllare lo stato dei luoghi e dei beni che vi afferiscono. Intanto manca ancora la valutazione economica del bene rispetto ai costi di gestione che pare arriveranno dall'azienda di Stato a breve. Un dubbio che aveva già espresso durante il suo intervento in Consiglio Comunale l'assessore Tuminelli, che ancora non è stato fugato, è la messa a norma rispetto alla sicurezza aerea. Pare che durante la riunione non siano state date delucidazioni sufficienti sul punto. Ormai appare chiara la volontà dell'amministrazione di acquisire il bene, anche adesso sollecitata ed impegnata da un atto di indirizzo del Consiglio Comunale in tal senso. L'antenna RAI della quale un modellino è stato esposto durante la seduta che ha portato all'atto di indirizzo è stata valutata a 534.000 euro circa. Ancora mancano tuttavia gli atti formali, come il vincolo paesaggistico da parte della sovrintendenza, in un iter che pare aver preso l'avvio. Lo dichiarò a suo tempo il sovrintendente durante la riunione che si è tenuta tra enti al Comune. E manca ancora una delibera per l'acquisizione, o meglio, la delibera fu redatta durante l'amministrazione campissima mai votata. Intanto numerose sono state le forze sociali che si sono esprette a favore del mantenimento del bene. Dalla Proloco, che ha organizzato un cominatato a favore dell'antenna, ad Italia Nostra. Una proposta che è arrivata dal Movimento 5 Stelle è stata invece quella di mettere in atto un referendum popolare per chiedere direttamente ai cittadini di esprimere il loro pensiero sul destino dell'antenna RAI.